Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi andiamo a consigliare due paste veloci per quando non ci avete voglia di cucinare. Siete di fretta e ci avete fan. Risotto alla milanese. E spaghetti cacio e pepe. Pronti in solo due minuti. Due minuti. Sono della beretta, beretta se vuoi. I fratelli beretta. Partiamo dalle quantità. 220 grammi. Però due porzioni, se lo mangi da solo questo. Proviamo prima i spaghetti cacio e pepe. Aspetta, allora. Come si presentano? Con una cremina. L'odore è buono dai. Non è proprio un odore di quelli che... Sentite l'odore. Ma come fa a essere 200 grammi? Sembrano gli 80 grammi della dieta. Ma infatti, secondo me, 200 grammi è con la plastica. Prezzo? 3 euro e qualcosa, non mi ricordo di perciò. Va bene, non c'è. Buttiamo due minuti in microonde. Per 200 grammi di prodotto, quasi 4 euro è tanta roba. Per i cicchi c'è anche il piatto, non dovete neanche sporcare il piatto. Anzi, se lo lavate, lo potete riutilizzare. Io sono per il risotto, perché cacio e pepe non proviamo. Non sono un amante. Alla milanese. Lei è amante della? Non lo posso dire. Momento ricetta. Ricetta moment. Quando vi volete fare una piadina con l'uovo, ma non volete fare la padella, prendete una ciotoletta, ci mettete l'uovo, ce lo rompete, mischiate un po' con la forchetta e lo mettete nel microonde, potenza bassa, ci state all'occhio perché scioppa e se scioppa nel microonde l'uovo è un problema. Niente, viene l'uovo sodo in un minuto, anziché in quanto ci vuole, 10 minuti. 10 minuti, sì no, vuol dire 10 minuti. Eh, come fai a fare l'uovo sodo? 10 minuti, sei in cavolo te. Eh, sono belire. Allora, l'odore c'è, l'odore c'è, è che è poca, pochissima, sono tre forchettate. Due, due piene. Il sughetto c'è, non è asciuttissima, come ci sembra? Non è manco malissima, cioè non gli avrei dato 4 su 5, guarda che non è male. Io che non sono amante del cacio e pepe l'ho mangiata, buono. Un po' di pepe in più perché il pepe non si sente tanto. Un po' di pecorino sopra. Eh, non si sente tanto. Non c'è il pepe. Eh ragazzi, a qualche parte hanno dovuto... Vabbè, ci sta, 4 su 5. Passiamo al risotto alla milanese. Questo è già meno invistante. Sì, questo lo sembra un po' una pappetta. No, a me piace il risotto. L'odore è meno promettente. No, l'odore è buono, cioè si sente lo zappello. Te sei di parte. Questa come si presenta? Eh, la presentazione di questa è un po'... È un po'... Lascia un po' desiderare. 750 watt, mi tronde in due minuti. Nel frattempo raccontiamo la battelletta. No, nel frattempo un'altra ricettina veloce. Un'altra ricetta veloce. L'uovo in camicia. Come si fa l'uovo in camicia? Acqua bollente. Con l'aceto. Giri, fai il vortice e butti l'uovo. Difficile quella. Difficile. Non ce la fanno manco a MasterChef. Se arriviamo a 30 like, rifacciamo la caccia di pepe noi. Manca la matriciana. Tutte le rifacciamo. Cioè, se ne sono un casino di pasta che possiamo fare. La ventanesca. La passione che dicevo. Facciamo quelle semplici. Le mettiamo a paragone. Aglio, olio e peperoncino e cacio e pepe. Aglio, olio e peperoncino ci sta. Cacio e pepe. La matriciana. All'aglio, olio e peperoncino si è fatta bene. È troppo buona. All'assassina anche. All'assassina. È quella che mentre la mangi... Ammazza, senti. Anzi, prossimamente video di palestra. Preparatevi. Questa è già più consistente. L'odore c'è, si sente. Sembra riso con la maionesa dietro. Non è Pimper My Ride. Quella madonsca. Allora, già partiamo. Cambiamo il riso. Diciamo che non è il mio piatto preferito. Mi sa un po' tipo di ricovero. Delusione totale. Sa proprio di chimico. No, il riso ci può anche stare. Ma è proprio... Non è buono. Questo io ci darei due e mezzo. Se stai morendo di fame, te la mangio. No. Va bene, dopo questa delusione... Mi raccomando. Del riso. Iscrivetevi al canale. Commentate, fateci sapere se voi l'avete assaggiati. 30 like e rifacciamo cacio e pepe. Se vi sono piaciuti... Ci vediamo. Mille aspetta. Mille like e rifacciamo il risotto. No, no, no. Ma neanche 2 mila, neanche 2 mila. 15 like uovo in camicia. Al prossimo video. Stacca, stacca, stacca.